E allora attenzione perché la serata si spazia sul lato sinistro della sparchetta dove Augusto è partito con il suo capitano Pasta E te lì, per chiunque, per esserci sfidarlo, può venire qua sul lato sinistro appena sotto il balcone dello Sporting Club Sardinia E Augusto, ti segna la parola, capitano Pasta Grazie a tutti